Ciao, sono Adam Claxon. Personalmente ho sempre odiato la festa di San Valentino. Quest'anno però è molto probabile che succeda qualcosa di veramente straordinario. Infatti, se prendiamo i numeri che compongono questa data, 14, 2, 12, e li sottraiamo, otteniamo 0. L'anno 0. È possibile quindi che in questo San Valentino nasca il nuovo Messia? Questa ed altre teorie sul canale dei soliti sospetti Tube. Non perdiamoci di vista. Un abbraccio. Adam